buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi signori rispondiamo ad una persona di hamburgo germania la quale scrive testualmente dottore perché bevo 10 caffè al giorno mi chiama mi chiama il caffè cosa si può fare con l'ipnosi dcs vera e professionale sono stato ipnotizzato da qualcuno sì o no beh la risposta ragazzi è sì e sì racconto un'esperienza personale quando ero un ragazzino vedevo mio padre ma anche i parenti di mio padre che andavano e venivano dalla macchinetta del caffè la famosa moca e all'inizio ero contrario dopodiché iniziai ad esagerare anch'io ero arrivato a berne circa 30 al giorno 30 caffè al giorno incredibile ma vero perché questo era scattato come una bomba d'orologeria molto molto più in là nella mia vita quando soprattutto ero uno studente lavoratore senza una linea in tasca vicino milano in quel di modena per chi non lo sapesse bene perché inconsciamente il mio subconscio aveva impresso nelle sue viscere quest'immagine di bere caffè di mio padre delle figure cosiddette autoritarie che per un bambino hanno un peso rilevante inconscio per cui se tu hai questo problema del caffè o di un'altra abitudine malsana un vizio una dipendenza un qualcosa che è più forte di te tu devi chiedere ma io se voglio se non voglio fumare se non voglio bere caffè se non voglio ingrassare se non voglio drogarmi se non voglio se non voglio insomma giocare d'azzardo se non voglio ingrassare se non voglio un qualsiasi cosa basta il non volere per riuscirci beh la risposta la devi da solo vero non è possibile perché perché la tua immaginazione che l'88 per cento della tua mente il famoso subcosciente il famoso pilota automatico la il genio della famosa lampada di aladino la tua mente profonda ti dice no o meglio più che dire immagina di no per cui quando immaginazione volontà sono contrapposte coscienza subcoscienza sono in antitesi una contro l'altra chi vince vince sempre il subcosciente per cui devi utilizzare l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola anche con un solo audio mp3 dcs che può fare per te come no alcol no droga no depressione no ansia no stress no gioco d'azzardo e compagnia bella il trucco è sempre convincere il tuo pilota automatico se hai dubbi qualsiasi tipo di dubbio o hai dei suggerimenti scrivemili soprattutto per i mail ti risponderò gratis fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino e facer condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi per favore anche gli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio e alla prossima ciao